Minacce, sequestro di persona, detenzione abusiva di pistola, detenzione di arma clandestina. Sono le corpose ipotesi di reato di cui dovrà rispondere un 65enne residente a Cuserco, l'ifrazione sull'Appennino Forlivese, disoccupato nel settore edilizio e arrestato domenica scorsa dai carabinieri. Da circa un anno era crisi fra l'uomo e la moglie, una 53enne che si è trasferita a Rimini per lavoro e qui ha iniziato un'altra relazione con un professionista coetaneo. Secondo quanto emerso dalle indagini, il marito già in altre occasioni aveva minacciato la moglie. Nello scorso fine settimana la donna è tornata a Cuserco per incontrarsi col figlio che frequenta le scuole superiori a Forlì. Qui l'avrebbe raggiunta anche il nuovo compagno che, sapendo delle minacce proferite dal marito, ha preventivamente avvisato i carabinieri della tenenza di Meldola che hanno organizzato un servizio di controllo con alcuni militari in Borghese. Domenica, quando la donna è arrivata, il 65enne l'avrebbe di fatto sequestrato in casa assieme al figlio, minacciandola pesantemente. Solo la insistenza del figlio e la sua minaccia di telefonare ai carabinieri ha poi convinto l'uomo a lasciarli uscire dall'appartamento. Il 65enne ha però seguito la moglie quando l'ha vista incontrarsi con il nuovo compagno, li ha affrontati con evidenti intenzioni minacciose. A questo punto sono entrati in azione i carabinieri in Borghese che hanno bloccato l'uomo trovato in possesso di una pistola carica. Già in passato l'uomo risultano essere state tolte delle armi dato il suo carattere rissoso. Successivamente all'arresto il 65enne è stato posto in libertà in attesa del processo con l'obbligo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla moglie.